I'm the realest one that's rapping, oh my god, oh my god, if I, I, I'm the lead, and when they lay me down, I rapped, I know I was always rap Salve a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti dal vostro Dark House Note 2 Oggi sono qui perché voglio mostrarvi dove si trova la stella di cerca tra un distributore, un campo da calcio e monte stand Ci vediamo direttamente in game, sarà un video breve ma molto intenso perché è una guida appunto per voi A tra pochissimo ragazzi, bella Ok ragazzi eccoci, ci stiamo buttando appunto per farvi vedere dov'è il punto esatto dove si trova la stella Quindi ci vediamo a tra pochissimo Oddio guardali tutti cercano la stella Eccoci ragazzuoli, abbiamo trovato la stella, questo è il punto esatto dove si trova la stella Qui, in questo punto esatto Mi raccomando, tanti like per questa guida, un bacione in mezzo dal vostro Dark House Note 2 E noi ci vediamo alla prossima guida Bella ragazzi Grazie a tutti Ciao 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 Ciao